...che si sapevo che vi informo in risposta a chi vi lo faccio. Allora, se non ci stanno a chi vi avrebbe... ...e si sapevo che vi faccio fare un'altra cosa. Tanti voi che vi faccio fare un'altra cosa. Poi magari, se ne hai amico, ci chiedete capito la seconda cosa. Fate un'idecora, non ci fa più dire, è che non ci sia un'altra cosa. Allora, hai togliere le azioni, non ci stanno a chi vi avrebbe... chi resta seduta seduta al progetto di Pio chi si alza al progetto di Pio allora il Pio passa a maggioranza non è sempre di applicare la seduta è terminata una comunicazione di servizio grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti